Le politiche di coesione europee sono state al centro dell'evento La politica di coesione beneficiarie parti interessate a Bruxelles. Presente la vicepresidente della regione Monica Barni, tra quote comunitarie, regionali e nazionali, le politiche di coesione valgono 2,7 miliardi per investire sui bisogni dei cittadini. Penso a quello che ha fatto la Toscana in questi anni nella passata programmazione ma anche nella attuale sui temi sociali e quindi con il progetto Giovani Sì che ha potuto mettere insieme, per mettere in sinergia fondi europei di natura diversa e per creare e orientare e far conoscere le possibilità dell'occupazione in Toscana. A rappresentare la Toscana il progetto Save My Bike finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Porfeser Toscana 2014-2020, unico finalista italiano nel concorso Reggio Stars Award 2018. Il progetto contribuisce alla mobilità sostenibile e permette di denunciare il furto della bici dalla piattaforma e dall'applicazione create appositamente. Oggi siamo qua come esempio di progetti che portano la coesione fra le popolazioni, fra i cittadini, fra l'amministrazione cittadini e quindi come caso d'uso di un progetto che cerca di creare partecipazione e cooperazione fra i cittadini. Tra le istituzioni presenti all'evento, oltre ai rappresentanti europei, anche quelli di molte regioni e imprese che hanno beneficiato dei finanziamenti comunitari.